Rosso Malpelo di Giovanni Verga Prima di cominciare ad analizzare la nostra novella, rileggiamone l'incipit. Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sì che tutti alla cava dell'arena rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Ecco, questo è l'incipit, cioè l'inizio della nostra novella. Una novella scritta da Giovanni Verga. Vi ricordate qualche informazione del suo autore? È un famosissimo scrittore della letteratura italiana. Prima di concentrarci sulla novella in sé, forse è bene fare un passo indietro ed analizzare qualche informazione rispetto alla vita del suo autore. Giovanni Verga nasce nel 1840 a Catania, in Sicilia. Tenete ben a mente questo dettaglio perché sarà importante in seguito. Da subito si appassiona alla letteratura e alla scrittura, ma è solo il suo trasferimento a Milano che determinerà davvero un grande cambiamento nella sua vita e soprattutto nella sua produzione letteraria. È infatti nella città lombarda che scopre per la prima volta alcuni autori francesi e in particolar modo Zola, l'autore del romanzo La Sommoire. Questo romanzo, pensate un po', colpisce talmente in profondo l'animo di Giovanni Verga che lo spinge a cambiare completamente il suo modo di scrivere. Infatti, proprio dopo aver letto questo romanzo, inizierà a scrivere un nuovo tipo di testo. Rosso Malpelo ne è il primo esempio. Questi nuovi testi, scritti da Giovanni Verga a Milano, appartengono ad un nuovo movimento culturale che Giovanni Verga, sempre dopo aver letto La Sommoire, contribuisce a fondare. Questo nuovo movimento culturale, questo nuovo movimento letterario, si chiama Verismo ed è una reinterpretazione del naturalismo francese, ovvero di quel movimento letterario di cui Zola faceva parte. Come il naturalismo francese, infatti, il Verismo, pensate un po' al nome di questo movimento, si propone di rappresentare la realtà, il vero, in modo oggettivo, cioè senza fare emergere il punto di vista dell'autore all'interno dell'opera. Gli autori veristi, e quindi Giovanni Verga, desiderano affrontare all'interno delle loro opere problemi reali. I veristi, e quindi Giovanni Verga, considerano la letteratura come una scienza, e quindi lo scrittore come uno scienziato, che si aggira per le strade della città come un osservatore e che descrive quindi in modo scientifico ciò che vede. Il Verismo si afferma nella seconda metà del XIX secolo, ma a differenza del naturalismo francese, pone in primo piano la questione meridionale. Adesso vi ricordate, vero? Giovanni Verga era nato in Sicilia, ed è proprio della Sicilia che racconta all'interno dei suoi racconti. Perché è la realtà della questione meridionale, concentrata in Sicilia, che lui vuole descrivere. Perché è la realtà che lui conosce meglio. Ricordiamolo, lo fa però senza esprimere giudizi, e cercando di raccontare esattamente ciò che vede, o che immagina di vedere, fedelmente anche da un punto di vista linguistico, ed è il motivo per cui all'interno della novella troviamo alcune espressioni di tipo dialettale. Arriviamo quindi alla nostra novella. Il protagonista, lo si capisce, vero? Già dal titolo, è Rosso Malpelo. Il suo nome deriva dal fatto che i suoi capelli sono rossi. E purtroppo, a lungo, si è creduto che i capelli rossi fossero un simbolo e una causa di malvagità. Ecco perché Rosso Malpelo viene definito malizioso e cattivo, e perché nella novella leggiamo «C'ingrassava fra i calci» che tutti gli tiravano. O, sapendo che era Malpelo, Ehi si acconciava a esserlo il peggio che fosse possibile. Tutti schivano Malpelo, mangia da solo mentre gli altri lavoratori della cava si uniscono in crocchio, si prende colpe non sue e neppure protesta. Tanto a che giova, tanto a che serve, dice, son Malpelo. Tutti lo trattano malissimo. Oltre a Malpelo, che è ovviamente il protagonista della nostra novella, spiccano altri personaggi, che però gli sono secondari. Innanzitutto, i componenti della sua famiglia, come il padre, Mastrumiscio, soprannominato bestia, perché lavora da mattina a sera come una bestia. Almeno fino alla sua morte, avvenuta proprio all'interno della cava di Rena Rossa, dove lavora con Malpelo. Ci sono poi la madre e la sorella, che sono personaggi crudeli e anaffettivi. Cosa vuol dire anaffettivi? Che non hanno mai dimostrato un briciolo di affetto nei confronti di Malpelo. Pensate che addirittura la madre si è dimenticata il vero nome di Rosso Malpelo. E lo chiama anche lei Rosso Malpelo, come tutti gli altri. Oltre ai personaggi della famiglia di Malpelo, spiccano nella novella tutti i personaggi che compaiono all'interno della cava di Rena Rossa, dove Malpelo lavora. Il padrone, gli altri lavoratori, e un ragazzino soprannominato da tutti Ranocchio, per via della sua gracilità. Come abbiamo visto, la novella è ambientata in Sicilia, all'interno, per lo più, di una cava di Rena Rossa. E di questa Rena Rossa, cioè di questa sabbia rossa, che Malpelo, prima insieme a suo padre, poi insieme a Ranocchio, scava, abbiamo moltissime informazioni. La Rena è traditora, dice Malpelo, perché da un giorno all'altro rischia di caderti addosso. Ed è il motivo per cui lui cerca di sopraffarla il più possibile, dando delle enormi zappate. Malpelo lavora nella cava di Rena Rossa praticamente da sempre. Dice infatti di esserci nato, si fa per dire ovviamente, ma significa che ha iniziato a lavorarci davvero presto. E quali erano, secondo voi, le condizioni di lavoro a cui era sottoposto Malpelo? Erano assolutamente dure. L'opera è ambientata nel XIX secolo, quando ancora i ragazzini e i bambini erano imposte condizioni di lavoro durissime in tutto il mondo. Nella novella, infatti, pensateci, per Malpelo si parla di fame, di vita immerso in un'aria malsana e ovviamente di lavoro minorile mal pagato. Rosso Malpelo è una novella importantissima all'interno del panorama letterario italiano. E non solo perché è una delle prime opere veriste che compare, ma anche perché al suo interno ritroviamo alcune tecniche narrative tipiche di Giovanni Verga. E, attenzione, in questa novella, queste due tecniche, che si chiamano discorso indiretto libero e straniamento, sono applicate in modo magistrale, cioè alla perfezione. Il discorso indiretto libero è una tecnica narrativa che è usata moltissimo da Verga, ma che non gli appartiene, ovviamente. È diffuso in tutta la letteratura italiana contemporanea. Consiste nel riportare liberamente le voci dei personaggi. Non esiste quindi un narratore, né interno né esterno, men che meno esterno onnisciente. A narrare la vicenda sono i personaggi stessi. E nel caso di Rosso Malpelo, si tratta dei compaesani di Malpelo, che raccontano le sue azioni mettendo sempre l'accento sulla crudeltà del ragazzino. O meglio, sulla crudeltà da loro vista nel ragazzino. Utilizzando il discorso indiretto libero, Verga cercava appunto quell'oggettività di cui abbiamo parlato all'inizio. Ve lo ricordate? Se avessi inserito un narratore, infatti, in qualche modo questo narratore avrebbe raccontato i fatti dal suo punto di vista. Viceversa, utilizzando il discorso indiretto libero, Verga riesce a fare in modo che il lettore veda nella sua mente esattamente ciò che avviene all'interno della vicenda, senza alcuna mediazione, senza alcun filtro. Arriviamo poi alla seconda tecnica narrativa utilizzata magistralmente da Verga all'interno della novella. Vi dicevo, lo straniamento. Per capire meglio di che cosa si tratta, fermiamoci prima a rileggere un pezzettino della novella. Siete pronti? Oppure gli dava la sua mezza cipolla e qui stiamo parlando di quando Malpelo aiuta Ranocchio, vi ricordate? E si accontentava di mangiarsi il pane asciutto e si stringeva nelle spalle aggiungendo «Io sono avvezzo». Era avvezzo tutto lui, agli scappaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi, con le braccia e la schiena rotta da quattordici ore di lavoro. Anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliel'aveva levata mai, il padrone, ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però e si vindicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda al diavolo. Perciò Ei si pigliava sempre i castighi anche quando il colpevole non era stato lui. Già, se non era stato lui, sarebbe stato capace di esserlo e non si giustificava mai. Peraltro, sarebbe stato inutile. Fermatevi a ripensare a questo passaggio. Interessante, vero? Inizia col descrivere un gesto gentile fatto da Malpelo e quindi passa a raccontare tutto ciò a cui lui era avvezzo, a descrivere nei dettagli la sua vita di sofferenza e solitudine. In questo consiste la tecnica dello straniamento, l'eccesso di cattiveria scritto all'interno della narrazione e gli accostamenti studiati tra le azioni di Malpelo e i commenti dei compaesani generano nel lettore un sentimento di pietà. Ve ne siete accorti? Senza che Verga abbia mai detto una parola in difesa di Malpelo, noi lettori siamo portati a sentire nei suoi confronti un sentimento di empatia. Noi siamo dalla parte di Malpelo! Come è possibile? Ecco, grazie alla tecnica dello straniamento. Rosso Malpelo, infine, ci aiuta ad alzare lo sguardo verso un'ottica di tipo interdisciplinare. Infatti, ci spinge ad approfondire da un punto di vista storico la questione del lavoro minorile, ad esempio nel contesto delle rivoluzioni industriali. Lo stesso argomento può essere approfondito anche in ambito geografico, in un contesto più contemporaneo. Inoltre, in campo civico, ci spinge a ripassare quelli che sono oggi, fortunatamente, i diritti dei fanciulli, che purtroppo però, a causa del lavoro minorile, vengono spesso violati. In inglese potremmo approfondire l'obiettivo 1 dell'Agenda 2030, quello che parla appunto di abbattimento della povertà. Infine in arte, riallacciandoci al fatto che Rosso Malpelo è una novella verista, potremmo fare una comparazione tra il verismo in letteratura e il realismo in arte. Questi sono solo alcuni degli spunti possibili. Lascio a voi il compito di cercarne altri. Intanto vi auguro buono studio e alla prossima!